accidenti chi ama le campane in questa casa guarda il babbo tutto sudato vai vai continua accidenti che ha costruito questo campanile ah la torre del palazzo pubblico senti quando ti passa questa fissa delle campane cos'è la mezza non so cosa arriva guardiamo un po' qua dai campanile vai vai scendiamo dai continua mannaggia ma sembra pericoloso vai bella vista guarda siamo arrivati vai facciamo l'ultimo guarda il babbo com'è sudato guarda il babbo com'è sudato si ma l'ha già fatto il tocco della mezza si l'ha già fatto il burro si la verità si si anche se non l'ha fatto non mi importa diciamo l'ha già fatto sono già le 2.38 ma per il tuo per questo forse no va a vedere vediamo quando arriviamo in giro c'ho odore di nido di uccello senti se per tu fare un tocco mi avrò più forte perchè tu fai detto tu aveva già fatto il tocco guarda qui sono un po' c'è l'unico di le scale mannaggia chi ama le scale in questa casa siamo arrivati fai passare il signore grazie senti gli uccellini forse babbo tisciare lì qua al vento va oddio ma che tampona è questa eccola eccola stiamo arrivati siamo arrivati no c'è un battacchio rotto urba eh si va 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 saluta dire ciao tondini ciao come un buon guarda fuori della mezza via via av van via via